Buongiorno a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo qualcosa di particolare e di diverso da quello che abbiamo presentato fino ad oggi. È un libro per bambini, ma anche per ragazzi e per adulti. È una leggenda, è la leggenda della principessa della montagna di Paolo Menconi, pubblicato indipendentemente, quindi acquistabile su Amazon. Sono tanta pagine ed è una leggenda emozionante e una favola per tutti. Quindi io non rubo tempo all'autore, sono curiosissimo di sentire cosa ci racconta di questo interessante libro. Prego. Grazie, dottor Kelly. Allora, diciamo che, come giustamente dice lei, intanto grazie per la bellissima presentazione e grazie per l'opportunità di poter essere qui con lei oggi e con tutti quelli che avranno poi l'occasione di ascoltarci. Diciamo che, come diceva lei, è una favola. È una favola molto legata alla musica, perché la musica fa parte della mia vita da sempre. Sono sempre stato un appassionato, ho suonato da ragazzo quando facevo l'università, ho girato un po' il mondo, eccetera. E poi è rimasto un amore alato dopo che ho deciso di occuparmi nè d'altro nella vita. Però poi, come tutti gli amori, il primo amore non si scorda mai, e da lì poi a un certo punto ho avuto un figlio e ho dovuto cominciare a imparare a raccontare le favole della buonanotte. E questo bambino che ormai è un ragazzo e oggi fa musicista, perché ha 24, quasi 25 anni, si sentiva raccontare tutta una serie di favole, quelle tradizionali, eccetera. Poi cominciai un giorno a inventarmi una favola. Quindi questa è una favola che viene da più di vent'anni fa e che poi è stata rielaborata quando è stata tirata fuori dal cassetto, che comunque ha alla base, come protagonista principale, la musica. Poi, chiaramente, doveva essere raccontata e quindi il vero protagonista è un menestrello, un menestrello coraggioso che parte un po' ingenuo, però ha una bellissima voce, questo amore per la musica, eccetera, e incontra alcuni personaggi. Il primo che incontra e che poi li farà da guida lungo il percorso che seguirà è un piccolo uomo, appartiene proprio a quei personaggi, proprio delle favole tradizionali, appartiene a questo popolo, questo popolo con grande saggezza, legato alla natura, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di un'ambientazione in un mondo fantastico medievale, però ambientata in un mondo inglese, nel nord dell'Inghilterra, ai confini con la Scozia, se dovessi andarla posizionare geograficamente, e siamo nell'anno 1061. In quel periodo, chiaramente, poi mi sono trovato, tra virgolette, costretto, perché ho scritto il libro, poi mi sono fatto anche aiutare da una giornalista e un musicista, musicologo, studioso anche del periodo medievale, e mi trovavo un po' tutti i giorni interrogato su alcune cose, perché io, da papà, magari all'inizio raccontavo che a un certo punto il menestrello mangia una fetta di torta, poi, e queste persone dicono, sì, però non era proprio una fetta di torta quella che si faceva in quel periodo, allora analisi di tutto quello che si poteva mangiare nel Medioevo, più o meno in quel posto, eccetera, eccetera. Poi tutta una serie di, chiaramente, approfondimenti che sono andato a fare, perché, nonostante sia una favola, volevo che avesse tutta una serie di coerenze, non delle incongruenze, con quello che era la storia vera di quello che poteva capitare in quel periodo. Cose del tipo che il piccolo uomo, quando si mettono a volte vicino al fuoco a parlare, per me fumava la pipa, e quindi, raccontata così, per me nella pipa aveva il tabacco, solo che il tabacco in quel periodo non c'era, chiaramente, come altre cose sono state scoperte o importate successivamente, e quindi, chiaramente, diciamo, c'è stata un'analisi, voglio dire, come se fosse quasi un romanzo storico, di fatto. Poi è chiaro che alcuni dettagli così precisi nella favola potevano sembrare o essere superflui o addirittura leziosi, però nella mia mente si è proprio creato, diciamo, questa ambientazione si è creata molto, molto coerente a quella che poteva essere quel periodo. E siccome è un periodo che a me ha sempre, in qualche modo, affascinato, è stata anche per me una bellissima occasione, in questo periodo, della scrittura, di andare a riapprofondire, riscoprire determinate cose. Questo anche musicalmente, poi, perché io ho suonato e insegnato anche musica, jazz, armonia jazz, eccetera, eccetera, però ero appassionato anche di queste sonorità, tant'è vero che per un paio d'anni avevo studiato anche la viola da gamba, andando a prendere tutto un repertorio che aveva poco a che fare con quello che stavo studiando io, suonando in giro. Tant'è vero che l'amore è continuato perché, a livello personale, poi sono andato a far costruire uno strumento particolare, perché io suonavo il banjo, cinque corde, partendo dalla musica country, eccetera, eccetera, avevamo fatto tantissima sperimentazione, e siamo arrivati, a un certo punto, a suonare delle cose che prendevano molto spunto da alcune ballate, eccetera, del periodo medievale, un po' del tutto dell'Europa, Nord Europa, eccetera. E ho fatto costruire uno strumento particolare, tutto il legno, che un po' richiamano via di mezzo tra un liuto, un buzzuchi, eccetera, eccetera, con delle sonorità particolari. Torno al libro, e il libro praticamente di fatto è un percorso che questo menestrello segue, perché i piccoli uomini gli raccontano che c'è un problema nelle terre del Nord. Di fatto una regina cattiva, che all'inizio non era cattiva perché era semplicemente una donna con una bellissima voce, che cantava e quindi veniva gratificata, voglio dire dalla sua capacità vocale, dal marito, tutti quelli che la ascoltavano, poi ha una figlia e questa figlia nasce anche lei con la passione per il canto e una bellissima voce. Sta di fatto che la regina si ammala, un po' come capita in questo periodo a molti, e a un certo punto, quando guarisce, perde la voce e questa perdita della voce innesca un meccanismo, come capita poi anche nella vita reale, di gelosia e invidia, sicuramente di frustrazione e di sofferenza in questa donna, che non può più cantare come prima. Allora da lì, piano piano, il male entra dentro di lei e quindi chiaramente comincia a sopportare poco la voce di questa figlia che ha questo dono miannaviglioso e piano piano si isola sempre di più e quindi diventa poi di fatto la regina cattiva. E la regina cattiva è talmente cattiva che sostanzialmente, adesso racconto un po' la storia, poi tutte le vere sorprese non le racconto ovviamente, ma di fatto vuole non sentire più la voce della figlia. e allora comincia a fare tutta una... si sposta, abbandona il castello, diciamo, di famiglia, si sposta in una torre di ghiaccio e infatti poi viene chiamata la regina di ghiaccio e da questa torre distribuisce un po' il male su tutto il regno e a un certo punto dice alla figlia se vuoi che questo male finisca mi devi dare la tua voce, cioè tu devi vivere nel silenzio e non ti devo più sentire. Allora la figlia di fatto per la salvezza del regno, eccetera, eccetera, dice va bene, sta di fatto che poi la regina cattiva non contenta di aver imprigionato la voce della figlia, comincia a imprigionare la voce di tutti anche gli animali del bosco, eccetera, eccetera. Non riesce a imprigionare il vento, l'acqua, il fuoco, eccetera, però di fatto il regno diventa un regno silenzioso. Allora il menestrello di fatto informato dai piccoli uomini decide insomma che deve liberare assolutamente la principessa e segue tutto un percorso con tutta una serie di avventure nelle quali lui comincia, riceve anche un dono, una pietra preziosa perché praticamente amplifica quelle che sono le sue emozioni, cioè quando lui trova qualcosa di ingiusto che non va bene, questa pietra è messa in una spilla che tra l'altro esiste veramente una spilla dorata a forma di aquila, eccetera, eccetera, più o meno del 4-500, lui se la mette sul cuore e questa pietra quando il suo cuore palpita contro le ingiustizie di fatto espande questa emozione e diventa una arma, se vogliamo, che difende la giustizia rispetto a quella che è la situazione sbagliata che lui sta incontrando durante il percorso. E quindi chiaramente lui alla fine è una persona che sicuramente è una persona molto giusta, leale, che va verso proprio la giustizia, il bene, eccetera, eccetera, e ha due grandi strumenti per combattere il male. Uno è la sua voce e la sua conoscenza della musica, quindi la saggezza che dentro i canti, eccetera, eccetera, si può scoprire proprio nella tradizione, eccetera, eccetera, e dall'altra parte ha questa pietra che amplifica quelle che sono le sue emozioni. E quando gli viene regalata questa pietra gli viene detto che questo meccanismo funziona solo in presenza di un cuore puro. Lui ha il cuore puro e quindi segue questo percorso e quindi incontra una serie di ingiustizie, le combatte, una strega cattiva, e poi arriva dalla regina. E dalla regina, praticamente, lui per liberarla deve rispondere a tre indovinelli, un po' anche questo come nella tradizione, ma in tante favole, in tante situazioni, si ritrova e lui risponde, chiaramente, facendo mente locale su tutta una serie di cose che lui ha imparato e che ritrova all'interno di antichi canti. e di fatto dentro le parole trova le soluzioni e quindi poi succede, diciamo, che lui riesce a liberare la principessa, però poi ci sono tutti però che vanno letti all'interno del libro. La cosa che devo dire è una favola nella quale si ritrovano anche tutta una serie di stimoli, voglio dire, anche in termini intellettuali, etici e morali. Nel senso che, per esempio, lui durante il percorso si rende conto, in fondo, che è un giovane menestrello, perché lui parte come il primo viaggio che fa questo menestrello, e quindi di fatto è carico di entusiasmo che è una cosa assolutamente buona, però è anche una persona consapevole. Lui dice, io sono un giovane menestrello, come faccio a combattere contro una regina cattiva che poi si è avvicinata al mondo del male? Cioè, la lotta sarà durissima. Però in tanto parte, e quando parla col popolo dei piccoli uomini, glielo chiedono, tu puoi anche non andare, non seguire questo percorso. Puoi prendere, ha ascoltato quello che ti abbiamo raccontato, però puoi anche andartene e tornare indietro. E lui invece dice, no, assolutamente, è giusto, bisogna farlo, perché quello che sta succedendo è sbagliato, quindi non so come fare, però parto e cercherò di fare del mio meglio. Poi, per esempio, anche durante la sera prima della battaglia contro questa regina, questa sfida, di fatto lui è timoroso, gli ritorna in mente, questo dice, sono un menestrello. E allora cosa fa? Lui anche in questo senso canta che cosa? E lì chiaramente ho fatto tutta una, ci sono una serie di filastrocche, rime, eccetera, eccetera, e ho inventato una, praticamente una lirica che va a riprendere la leggenda di Davide Golia. E quindi questo giovane, apparentemente fragile, che deve combattere contro questo gigante, che lo deride, perché vede un ragazzino, e chiaramente il ragazzino non è che è tutto tranquillo, ha paura, come il menestrello ha paura prima, diciamo, di incontrare la regina. Però dentro questa, diciamo, questa filastrocca che ho scritto, c'è proprio tutta la storia e praticamente il menestrello trova, per come è andata la storia di Davide Golia, il coraggio dentro di sé e dentro questa conoscenza che lui ha, che scopre e riscopre durante queste situazioni e quindi va più carico di prima, cioè un pochino più tranquillo, anche un giovane ragazzo può in qualche modo affrontare un gigante. E lui va in quella direzione. Ci sono anche delle altre riflessioni, per esempio, alla fine, perché la storia parte da un nipote che va a trovare un nonno. Questo nonno è la saggezza e il giovane nipote praticamente ama andare da questo nonno perché questo nonno la sera gli racconta delle favole e delle storie. E la storia della leggenda della principessa della montagna è la prima storia che questo nonno racconta a questo nipote. Alla fine di tutta la storia, poi vedrete come va a finire, il ragazzo, perché si ritorna al nipote e al nonno e il nipote dice al nonno ma come i piccoli uomini avevano chiesto al menestrello in effetti il menestrello avrebbe potuto scegliere di non andare e di non seguire questo percorso perché era complicato, in fondo rischiava la morte perché se avesse sbagliato a rispondere a uno degli indovinelli avrebbe avrebbe perso la vita e il nonno gli dice sì e comincia con piccole frasi eccetera e si parla del destino e quindi sono andato a riprendere anche alcune cose di Shakespeare alcune anche qualcuno prima di lui proprio sul fatto che ognuno di noi è padrone del proprio destino e che ognuno può scegliere. Poi è chiaro che se uno non sceglie nel libro c'è scritto chiaramente è un po' il destino che ti viene a cercare per cui in qualche modo va affrontato e quindi è tutto un libro diciamo per quello che dico è adatto per i bambini io l'ho fatto leggere anche l'hanno letto dei papà di miei amici e mamme a bambini di 4-5 anni chiaramente è scritto che un pochino un bambino di quell'età va aiutato perché con una scrittura abbastanza raffinata eccetera però è già un bambino 8-9-10 anni può leggerselo in autonomia devo dire che l'hanno letto molti adulti e a parte quelle che sono le recensioni che si trovano su Amano Amazon sicuramente molti mi hanno scritto chiamato eccetera tra le molte cose che ricordo che sicuramente mi sono rimaste più in mente in questo periodo c'è una telefonata di una mia cara amica che mi ha detto che una sua cara amica l'ha chiamata era molto commossa perché le ha raccontato che erano anni che non parlava con la figlia per una serie di dissapori tra di loro eccetera e dopo aver letto il libro si è trovata come in una situazione di pace perché il libro un po' riporta tutta una serie di principi sentimenti emozioni che sicuramente magari avevamo quando eravamo un po' più piccoli un po' meno inquinati da tutto quello che ci circondava viviamo in un mondo un po' più fantastico dove sicuramente le cose erano anche un po' più semplici e questa signora ha detto ho finito di leggere il libro mi sono sentita molto più leggera pulita eccetera eccetera ho preso il telefono e dopo tanti anni ho chiamato mia figlia e ci siamo riconciliate devi dire al tuo amico autore che lo devo a lui e questa è una delle cose al di là voglio dire di quelle che possono essere delle critiche positive letterarie eccetera eccetera una di quelle cose che mi fa mi ha toccato molto ed è quello che poi mi hanno detto diverse persone che è un libro che al di là della favola ti fa recuperare tutta una serie di situazioni emozioni sentimenti che poi ti porti dietro questo me l'hanno detto diversi finito di leggere so che lo rileggo perché quando ho finito di leggere mi sentivo in pace detto sicuramente è un libro che parla un pochino di magia magari ce l'ha in modo intrinseco tra le pagine insomma questo è devo dire un'altra cosa perché questo libro è nato per un sogno perché al di là di aver raccontato la favola a mio figlio che adesso l'ha riletta e mi ha detto che a lui piace molto eccetera ma è tutto nato anche perché il mio desiderio di base era che questa favola diventasse un film di animazione allora da lì mi sono proprio deciso che mi sarei dedicato con molta più attenzione a scriverla perché volevo aiutare un eventuale sceneggiatore o regista a trovarsi sul piatto tutta una serie di elementi che lo potrebbero in qualche modo aiutare a definire quelle che possono essere poi chiaramente la sceneggiatura le scene particolari eccetera e una delle cose che mi è stata detta assolutamente è che quando lo si legge lo si vede lo si sente lo si percepisce cioè i sensi sono tutti molto coinvolti su questo è vero sono stato abbastanza attento nelle ultime riletture del proprio del testo ad andare a cercare quelle che potevano essere proprio le emozioni sensoriali per cui chi lo legge molto probabilmente sente il profumo del pane appena sfornato il profumo della resina quando si accende il fuoco che si spande nell'aria alcuni suoni gli animali all'inizio poi manamano che ci si avvicina al castello della regina sempre più il silenzio e mi dicevano si sente il silenzio rispetto a prima quando il libro inizia e quindi c'è anche tutta questa questo aspetto e infatti nelle prossime settimane ho degli appuntamenti proprio con delle case di produzione mi piacerebbe venisse fatto in Italia nel senso voglio dire questa Italia così distrattata da tutti almeno insomma la storia è una bella storia sicuramente potrebbe venire fuori un bel lavoro in questo senso in questa direzione e non mi dispiacerebbe che la casa di produzione fosse italiana ci sono una serie di opportunità qua ce ne sono anche all'estero io poi sono abituato a parlare abbastanza all'estero come le dicevo visto il mio lavoro che mi porta frequentemente a fare analisi e ricerche in diversi paesi sicuramente all'estero si muovono con una velocità e un'attenzione diversa però ci terrei cioè mi piacerebbe se questo sogno si deve realizzare non mi dispiacerebbe che fosse tutto made in Italy questo rapidamente a grandi linee ho un po' quella che è la realtà di questo libro sicuramente devo dire che è stata un'esperienza anche personale al di là voglio dire dello scrivere molto profonda perché sicuramente sono andato come le dicevo all'inizio a riprendere tutta una serie di situazioni mondi informazioni che appartenevano non so anche a non so la mia cultura scolastica eccetera eccetera perché per approfondire anche solo per scrivere in rima certe cose allora vai a riprendere Petrarca l'Orlando furioso piuttosto che e ti sposti proprio mentalmente in in un tempo differente e questo tempo differente secondo me lo si percepisce all'interno del libro e la leggenda della principessa della montagna è stata per me proprio una una bellissima esperienza proprio come scrittore come persone eccetera e spero poi che molti lettori possano condividerla devo dire che c'è già un'evoluzione una casa editrice alcune case editrice ma una è stata un po' più veloce delle altre mi hanno già chiesto se esisterà un secondo un secondo episodio insomma perché questo menestrello arriva alla fine del libro e in fondo dice sono pronto per il prossimo viaggio questo viaggio c'è e questo viaggio c'è già stato diciamo costruito come telaio del del secondo episodio e mi ha fatto piacere che proprio in qualche modo le case editrici fossero attente non l'ho pubblicato come primo come primo libro con una casa editrice proprio perché avevo più l'esigenza all'inizio questa era la partenza di avere un testo pubblicato per parlare con queste case di produzione per l'eventuale trasformazione in un film di animazione e quindi avevo pensato meno a tutti gli aspetti editoriali ecco allora ho detto tanto lo pubblico mi serve avere in mano piuttosto che sedermi a un tavolo con una casa di produzione con un pacchetto di fogli sicuramente sapendo che l'avrei curato in un altro modo forse è meglio preparare un vero libro e così e poi è nato il libro poi mi sono veramente immerso e il libro sicuramente il testo mi ha sicuramente guadagnato perché l'attenzione era diversa rispetto a una sceneggiatura però devo dire che mi ha coinvolto anime corpo cioè io andavo a dormire e mi raccontavo la favola questo è vero me l'immaginavo allora ormai avevo imparato che di fianco sul comodino dovevo avere un blocco con una penna e scrivere le idee eccetera per poter al mattino alzarmi e poi quando avevo lo spazio e il tempo reale per andarla a sviluppare avevo già tutta una serie di spunti ma perché la mente aveva elaborato e mi aveva regalato dei pezzi del film sostanzialmente e quindi da lì partivano tutta una serie di approfondimenti sviluppi eccetera che poi si sono riplasmati all'interno di tutto il testo e anche su questo devo dire che sono sì forse 80 pagine apparentemente sembrano poche rispetto ad altri libri magari che appartengono alla sfera fantasy però posso dire che sono 80 pagine molto intense e come quando si va in un buon ristorante è bene uscire con un pizzico di appetito e credo che questo libro faccia un po' questo effetto tant'è vero che molte persone mi hanno detto all'inizio l'ho letto tutto si legge in due ore due ore e mezzo tre a seconda due sere mentre ci si addormenta ma tutte quelle che poi io ho sentito e ho detto guarda però è lì su comodino perché la prima lettura dovevo sapere come andava a finire e poi adesso me lo riapro e me lo rileggo pagina per pagina ci sono delle persone che mi leggo anche solo quelle che sono le liriche che è scritto perché sono anche solo belle da leggere in un ambito tra virgolette più poetico ecco e quindi c'è un po' di tutto c'è un po' di poesia c'è sicuramente dell'avventura ci sono sicuramente anche come dicevo prima degli spunti di riflessione che vengono un po' per tutti in modo diciamo più trasversale hai qualche domanda? ma sì qualcuna ce l'ho perché sono incuriosito anche dalle note che accompagnano il libro soprattutto nella parte finale quando si citano i musicisti perché ci sono parecchi che io conosco molto bene basta parlare di Vince Tempera di Giorgio Panni e di la famiglia ecco quindi ero curioso di capire in che modo entravano in questo libro allora partendo dal fatto che appunto la protagonista centrale del libro al di là del personaggio che è il menestrello è la musica e siccome io come dicevo per me la musica è sempre stato un mondo così vicino ho coinvolto una serie di amici in questo senso e loro conoscono il libro eccetera e sono stati così gentili da scrivermi queste bellissime frasi e questi bellissimi pensieri sulla favola con molti di questi anche avevo suonato ho suonato eccetera quindi ci conosciamo da tanti anni e loro mi hanno detto che era una bellissima avventura che sposavano in pieno infatti poi tutte le frasi e tutti i pensieri sono pubblicati o sulla quarta di copertino o all'interno e devo dire che ero non so c'è Finardi Tempera Fiordaliso Trebes come dicevi Tuberti Canonici che è un tenore che conosco da tantissimi anni Coltri la soprano Francesca Patanè cioè sono persone anche non solo musicisti ma anche con un grande stessore secondo me Finardi è un poeta di suo voglio dire diciamo che quando è nata questa avventura volevo che la musica veramente fosse la vera protagonista e come si può vedere non sono andato a chiedere commenti a esperti letterari ma a musicisti ora gli esperti letterari possono i critici letterari possono divertirsi in tutti i modi però volevo che fosse un qualcosa che nasceva proprio con con la musica al centro e devo dire che sono veramente rimasto lusingato onorato un piacere personale enorme a leggere i loro pensieri perché poi questo minestrello è diventato un po' tra virgolette un supereroe molto in punta di piedi però combatte delle battaglie anche importanti perché all'interno del libro per esempio c'è una cerimonia prendendo spunto da alcune cerimonie di cui si parlava dei druidi eccetera non ci sono certezze a livello storico ma sembra molto probabile poi però si dai romani che facessero dei sacrifici romani a un certo punto nel libro c'è una situazione nella quale un ragazzino è prigioniero e siccome è diverso dagli altri viene considerato come causa della carestia eccetera di quel periodo invece era semplicemente la carestia causata da tutte le azioni che portava avanti la terribile regina di ghiaccio ma il menestrello si trova di fronte a una situazione nella quale un qualcuno di diverso in qualche modo diciamo ha ditato come causa di tutti i mali cosa che ahimè capita anche nella nostra società in qualche modo e chiaramente succede che il menestrello questa questa cosa non l'accetta perché perché una persona col cuore buono come tutte le persone che non accettano che la diversità sia considerata un qualcosa di negativo e risolve poi bisogna leggere il libro come perché eccetera però ecco anche in questo senso quando avevo raccontato che volevo inserire un episodio del genere mi era stato detto ma difficile da trattare e ho detto beh è un problema mio e quindi lo affronterò e poi alla fine molti mi hanno detto cioè lo può leggere anche un bambino sicuramente crea un po' di tensione perché è giusto che ci siano anche delle tensioni perché un bambino come un adulto di fronte a un qualcosa di sbagliato deve sentire una spinta perché non va bene e allora il menestrello poi chiaramente rappresenta tra virgolette il supereroe che in qualche modo risolve questa situazione che va a finire bene ovviamente e quindi io credo che cioè lungo questo percorso in queste 80 pagine ci siano sicuramente una serie di spunti che fanno pensare sicuramente questi musicisti di cui parlavi prima lo hanno gradito ecco sicuramente altra domanda no beh direi che adesso non possiamo più spoilerare tutto possiamo ricordare come si intitola sì la leggenda della principessa della montagna io sono Paolo Menconi e lo trovate su Amazon sia in formato ebook sia in formato cartaceo e il menestrello come si chiama si chiama Nill Nill sì sicuramente guarda questo devo dire che ho fatto una grande ricerca perché anche i nomi che vengono utilizzati hanno tutti un significato hanno un significato antico che viene sicuramente dalla cultura celtica e quindi si può andare anche a scoprire quello non è stato semplice perché volevo trovare assolutamente il senso anche in quello per cui anche la principessa si chiama Eileen e non sono nomi come dicevo presi perché suonano bene hanno proprio un significato preciso dentro proprio il nome insomma va bene allora io la ringrazio per aver accettato il nostro invito ricordo grazie i videoascoltatori di continuare a seguire Italia Medievale sul sito che è www.italiamedievale.org dove troverete anche questa video presentazione insieme alle tantissime che abbiamo fatto in questo lunghissimo anno di pandemia e non mi resta che ringraziarla e invitarmi grazie a lei ad acquistare il libro grazie ancora dell'opportunità e vi auguro buon lavoro e che questo periodo finisca presto un abbraccio a tutti grazie ancora o rosa o rosa o rosa o rosa bella o rosa bella o rosa o rosa o rosa o rosa